Incertezza è la parola chiave per definire lo stato delle istituzioni molisane, regione comune e provincia di Serni in attesa di sentenze e decisioni finali sulla spending review, ma anche per una serie di problemi nel campo economico e produttivo che proprio dall'incertezza sul futuro dell'assetto istituzionale potrebbero aggravarsi. Ma è l'attesa per l'ormai famosa sentenza del Consiglio di Stato che deve decidere se confermare l'annullamento delle elezioni regionali dello scorso anno oppure no, ad alimentare se possibile ancora di più l'incertezza. Se dovessero trovare conferma nelle prossime 48 ore le indiscrezioni sulla conferma dell'annullamento delle elezioni regionali, nel Molise si potrebbe tornare al voto a dicembre o al massimo a gennaio del prossimo anno, in una sorta di election day regionale che interesserebbe oltre al Molise anche Lombardia e Lazio dopo il crack dei governatori Formigoni e Polverini. A sostenerlo è il consigliere regionale del PD Michele Petraroia, che tuttavia evidenzi i rischi di una campagna elettorale molto lunga, che riguarderebbe regione e Parlamento nazionale, passando per le primarie del centro-sinistra e probabilmente anche quelle del centro-destra, dopo il passo indietro di Berlusconi. I rischi riguardano i problemi dei cittadini e la realtà economica e imprenditoriale. La crisi economica per i cittadini è sempre più dura, dice Petraroia, e ci sono molte questioni calde che non possono aspettare per la soluzione i lunghi mesi della campagna elettorale. Il piano sanitario regionale che deve essere approvato, la Cassa integrazione in scadenza a fine anno per migliaia di lavoratori, l'appalto per il trasporto pubblico locale, il contratto di sviluppo per l'ITR e la difficile situazione della Solagrital con i lavoratori che attendono il passaggio alle dipendenze della GAM, così come quella dello zuccherificio di Termoli. Insomma, se deve essere voto, voto sia, ma subito alla prima scadenza utile per dare certezze e non affossare l'economia regionale.